Quando saremo arrivati al termine della costruzione europea, perché siamo ancora dentro un cantiere, dobbiamo mandarlo avanti, dobbiamo scriverci un bel cartello, lavoro in corso, quando alla fine la costruzione europea sarà terminata e tanti muri saranno crollati e tanto spirito nazionalista svanirà per far emergere quanto è bello sentirsi italiani. Ma senza questo spirito nazionalista che ti fa essere separato e diverso e diviso dagli altri. Cosa ci sarà alla fine? Ci sarà che l'Europa saranno le nostre città. E Firenze si troverà avvantaggiata perché ha avuto una ricchezza di esperienze, di sapere e saprà da che punto prendere il mondo e aiutarlo a crescere e a vivere in pace. Grazie. 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 Grazie.